gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia qualcuno di voi si sarà chiesto ma la raccolta firma di salvini a quanto è arrivato a quanto è arrivata quanti hanno firmato per cancellare la chiusura notturna dalle 22 alle 5 io vi parlo proprio di ieri sera a diciamo a a luna di notte i dati a luna di notte diciamo che sono delle delle 10 delle 22 i dati alle 22 dicono che 119.556 cittadini hanno già fatto in soli tre giorni la firma in internet questo è il dato che volevo compartire con voi poi vi racconto della profezia di mieli dice facendo così salvini farà di berlusconi un santino della sinistra berlusconi punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste ma paolo mieli sul corriere della sera scrive proprio questo ma non è proprio una una cosa da ridere non era una battuta dice ha fatto la battuta no in realtà la sinistra specialista in capriole o per il detto parigi val bene una messa in politica funziona sempre soprattutto se poi c'è l'elezione del capo dello stato ma perché mieli scrive questo partiamo da letta che sta cercando a tutti i costi partiti partitelli partitoni partitucci per fare una maggioranza alla ursula o perlomeno proprio una maggioranza così come quella che c'è stata per l'elezione di ursula von der leyen in europa questo il nome della di ursula von der leyen è solo per richiamare quella famosa maggioranza che chiamano maggioranza ursula con cui due anni fa forza italia 5 stelle e pd la elessero al vertice del governo dell'unione europea e così letta punta anche in italia alla maggioranza ursula letta conte berlusconi letta pd conte 5 stelle berlusconi anche perché berlusconi ha un feeling con conte berlusconi ha sempre avuto un debole per conte conte ha sempre avuto un debole per berlusconi parecchie volte ci sono parlati con tante parolone di di lodi reciproche quindi conte berlusconi nonostante conte sia capo poi dei 5 stelle ma quello potrebbe berlusconi soprassedere nel senso che quando il cavaliere vedrà che conte effettivamente il capo dei 5 stelle comincerà a cambiare anche idea sui 5 stelle perché berlusconi ha sempre detto mai coi 5 stelle però con conte potrebbe dire insomma insomma e così mieli scrive proprio così avrebbe interesse proprio il leader del pd che si avrebbe per l'occasione dell'involontaria complicità di matteo salvini in teoria diciamo che già nel 2019 quando la presa pretesto per rompere il conte 1 dove stava come tornare poi tornato poi all'opposizione in tal senso l'astensione della lega sul decreto quello chiamato riaperture è un indizio maletta insino a mieli potrebbe avere interesse a che ce ne fosse un secondo e persino un terzo così da costringere salvini a trasformare il contrasto con il pd in aperta ostilità a draghi mettendosi di fatto fuori dal perimetro della maggioranza l'idea di letta sarebbe quello di cacciare berlusconi salvini dalla maggioranza salvini ha capito perfettamente dice ma io non me ne vado questa volta non me ne vado per nessun motivo ma questo sarebbe lo scenario da favola ipotizzato da letta che potrebbe ritrovarsi in compagnia solo di berlusconi trovarsi in un governo attualmente con berlusconi esponente del centrodestra e basta sarebbe già una maggioranza ursula e questa poi potrebbe poter cercare di portarla avanti anche con le prossime elezioni politiche avete capito il giochino del centro-sinistra elevare berlusconi cercare di far andare via salvini innervosendolo così loro possono eleggersi il capo dello stato e possono prepararsi alle prossime elezioni cercando di tirar dentro in questa maggioranza ursula anche berlusconi e voilà e così il gioco sarebbe fatto e così il cavaliere diventa o assume le vesti di un fortissimo riferimento di tutte le forze progressiste vi ricordate che durante il conte 2 hanno cercato di osannare berlusconi in tutti i modi grande statista l'unico affidabile il riferimento del centrodestra gli servivano i voti gli servivano i voti di salvini vi ricordate no c'è di berlusconi al senato per poter andare avanti con il conte 2 poi quando non è più stato necessario non l'hanno più calcolato adesso di nuovo diventa un fortissimo riferimento di tutte le forze di sinistra ma come era era il cavaliere nero non vi ricordate come lo chiamavano insomma per 26 anni berlusconi ha subito quello che sta subendo adesso salvini è come se salvini fra vent'anni diventasse un fortissimo riferimento di tutte le forze di sinistra abbastanza curiosa come cosa che dite e beh insomma a sinistra sono furbacchioni e stanno cercando di avvicinare il cavaliere per non far vincere berlusconi e meloni alle prossime elezioni politiche naturalmente gioiscono che berlusconi che salvini e meloni già non si parlano da diverse da diversi giorni oseremmo dire da almeno due tre settimane non si stanno più parlando addirittura si erano incontrati in aereo non si erano neanche neanche salutati anche se dai testimoni dice sia la meloni che chi c'era con lui se non sbaglio era la russa hanno provato a fare così con la mano ma salvini si è girato dall'altra parte una volta col cellulare una volta guardando fuori dall'oblò vabbè a parte gli oblò io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti quanti e ci siamo siamo anche nella community dove trovate tanti sondaggi quali poter partecipare siamo sono anche poi gli abbonamenti al canale che cosa sono sono una cosa in più con l'abbonamento di un euro potete vedere tutti i video con priorità anche diverse ore prima degli altri e poi con l'abbonamento da 3 euro al mese potete vedere oltre ai video in anteprima anche dei video dedicati solo a chi ha questo abbonamento grazie a tutti e ci vediamo se volete tra una ventina di minuti per un altro video arrivederci grazie a tutti